Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio rispondere ad alcune domande che mi vengono fatte. Mi viene chiesto, Sara, ma te quando fai questi video vieni pagata, vero? E quando visualizzo il video, quando guardo il video, ti faccio arrivare dei soldi, vero? No, in realtà io non guadagno un solo centesimo da questi video. E allora mi dicono, ma allora che te lo fa fare? Cosa lo fai a fare? Tutti i giorni questo video? Tutti i giorni ti alzi la mattina e pensi a cosa raccontarci? E registri il video, poi lo carichi, lo tratti e lo pubblichi? Sì, lo faccio tutte le mattine. Ma perché lo faccio? Non certo per il denaro, lo faccio per un altro motivo, perché guardandomi intorno io vedo che le persone sono molto tristi in questo periodo e principalmente sono tristi per due motivi. Il primo motivo è che non hanno abbastanza soldi per arrivare a fine mese. E il secondo motivo è per quello che pensano. Hanno dei pensieri negativi che li tormenta tutto il giorno e tutti i giorni. Quindi per questo io faccio questi video, perché se riesco a regalarti un solo sorriso, a farti cambiare anche solo un piccolo pensiero da negativo a positivo e se riesco a farti guadagnare qualche soldo aggiuntivo grazie a internet, io ho reso questo mondo un pochino migliore. Quindi è per questo che lo faccio. Per te, per aiutare te e di conseguenza anche me, perché avere una persona accanto felice mi rende più felice. Beh, come sempre spero che questo video ti sia piaciuto e che ti sia utile. E se ti piace, metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici. Aiutami a rendere questo mondo un mondo migliore. Per te, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, per i miei nipoti. Quindi rendiamolo un posto migliore. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube. Se stai vedendo questo video YouTube, qui nell'angolino potrai vedere la mia faccina dove puoi premere per poterti iscrivere. Se invece stai vedendo questo video in Facebook, sopra ti lascio il link. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!